Dunia mi chiede, sono una musulmana, mi chiedevo come viene visto, come vengono viste le cerimonie dalle religioni, soprattutto dall'Islam. E perché le religioni sono così lontane dalla realtà di madre terra, nel senso non viene permesso di vedere quello che ci offre. Grazie per la domanda Dunia, Dunia, non so come, Dunia, Dunia. Allora, è una questione interessante. In realtà, dentro i testi sacri di molte religioni, si parla di cerimoniali che ti aiutano ad entrare in connessione profonda con te stesso o con te stessa. L'altra questione interessante è questa. Buddha non era buddista, Cristo non era cristiano e Maometto non era islamico. Curiosa sta cosa, no? Cristo era cristiano e non c'era Cristo prima di Cristo. Buddha, che in realtà Buddha vuol dire colui che si è illuminato, però poi nel gergo comune, quindi Gesù è un Buddha in realtà. Il significato della parola Buddha significa colui che ha sciolto il Matrix, parlando in termini moderni. Quello lì è Siddhartha, però ormai li chiamano buddisti. Ok, però va bene, insomma, siamo capiti. Curiosa sta roba, no? Va bene, i testi sacri parlano, chiaramente, di una serie di pratiche che sono molto utili per entrare in connessione profonda con se stessi. Poi, quindi si parla di pratiche spirituali, di tecniche che di respirazione, eccetera, utilizzo di piante maestre, ma poi negli anni, è presente il gioco del telefono senza fili? Quando giochi da bambino, gli suggerisci nell'orecchio una cosa, inizi, dici macchina, e l'ultimo dice astronave. Dici, ma come fa da macchina a astronave? Questo è successo. Che a furia di riportarsi le cose, il risultato finale è cambiato. Sicché molte persone, nelle religioni moderne, hanno cambiato un po' le cose, e non riportano più alcuni insegnamenti, se ne sono dimenticati alcuni di insegnamenti. Il caso delle piante maestre è proprio eclatante. Nei veda, cito, a volte i veda, i testi sacri indiani, si parla, giusto appunto, della soma, una bevanda maestra, che ti aiuta a entrare in connessione con te stesso, con te stessa. Sono appena stato in Nepal, c'è l'utilizzo di un altro rimedio straordinario prodotto dalle api, come rimedio spirituale. Quindi anche nell'Himalaya c'è la possibilità di farsi aiutare dalle piante o dai rimedi prodotti da madre e terra, per entrare in connessione profonda con se stessi. E non è importante capire perché, perché le religioni sono così lontane dalla realtà, questa è la domanda. Non è importante capire il perché, nel senso non viene permesso di vedere quello che ci offre. E' come dire, ma perché il sole splende? Mai. Una volta che lo sai, cosa cambia nella tua vita? Una volta che sai il perché di tutte le cose, cosa cambia nella tua vita? Niente. Anzi, avrai dei nuovi perché. E i bambini te lo dimostrano. Perché? 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 Perché due non fa tre? Perché? Perché? Perché sono un tuo specchio. Perché? 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 Perché lo specchio, i bimbi sono un tuo specchio. Perché? 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 Tu vuoi dare una risposta a tutti questi perché? Vuoi una risposta a tutti perché? 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 In realtà non cambia niente. Una volta che sai il perché, quello che conta è come tu reagisci alle situazioni. E che impari a scegliere ciò che ti piace. Se ti piace il gelato al pistacchio, non chiederti perché mangia e basta. Segui ciò che senti. 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 Molto semplice. Quindi è importante se tu sei musulma. Tu non sei musulmana. Musulmana. Non sei musulmana. Musulmana. Guarda che attribuzioni forti. Sono musulmano cristiano. Sono italiano. Sono un dottore. Ma io sono un bravo ragazzo. Sono un'astronava. Sono un pilota. Sono vegetariano. Sono vegano. Sono carnivoro. Sono, 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 sono. No. Non c'è stare chi sei. Sono. Vedi poi l'altra cosa. Mi chiedevo come viene visto. Come vengono viste le cerimonie con le piante maestre dalle religioni. Dalle religioni. Ma chi sono le religioni? Le religioni. Come dire lo Stato. Sono queste entità astratte. Cosa ne pensano le religioni? Che ne so io. Chi appa un prete gli chiede al prete cosa ne pensa. Prendi un rabbino e gli chiedi cosa ne pensa. Prendi un monaco e gli chiedi cosa ne pensa. Prendi un pastore e gli chiedi cosa ne pensa. Chi appi qualcuno e gli chiedi cosa ne pensa. Le religioni. Astratto. Gli italiani. Astratto. I musulmani. Astratto. Astratto. Lontano. Perché le religioni sono così lontane dalla madre terra? Mica è vero. Mica è vero. Ci sono pratiche straordinarie. Turududu. E taradada. Insegnamenti straordinari che provengono dalle religioni. dai testi. Testi straordinari. Coreano. La Bibbia. Iveda. Grandi insegnamenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. È vero. Adesso. Quello. E scegliere.